Allora, buonasera, è venuto a questo terzo e ultimo incontro di iniziazione al C++ moderno, tutto sommato, questa sera faremo le ultime cose obbligatorie per un programmatore standard e poi inizieremo le cose un po' esoteriche, un po' strane, un po' moderne. Devo dire che Marco mi ha preparato del codice che voi umani non potete assolutamente immaginare e quindi ci sarà anche da ridere. Dunque, prima però rimaniamo un pochettino sulle cose un po' più standard e parliamo del terzo elemento comandamentale dell'STL che è gli algoritmi. Perché gli algoritmi? Allora, è chiaro che scrivere gli algoritmi è sempre una cosa interessante, è una cosa che un informatico deve imparare a fare da solo per prendere confidenza con le cose, quindi si deve scrivere i suoi algoritmi di ordinamento, si deve fare le sue ricerche, magari la visita degli alberi e cose del genere. Però, diciamo anche professionalmente, non ha tanto senso ripartire sempre da zero, come dicono gli inglesi, reinventare la ruota. Quindi una volta che abbiamo assodato che gli algoritmi sono questi, specie se sono quelli ottimi per la cosa che ci serve, comunque quasi ottimi per le nostre implementazioni, è inutile perdere del tempo a rifarla tutte le volte. E questo in realtà, diciamo, ci permette di attingere alle conoscenze di altri, di Eiffel, Neumann, di Rohr e tutti gli altri che hanno scritto grandi algoritmi, senza praticamente scrivere una riga di codice. E questo è il motivo di fondo dell'uso di algoritmi, che permette di utilizzare questi algoritmi in modo semplice e parlante e veloce, ci aggiungerei. Questo è particolarmente utile nel caso delle competitive programming, che sono quelle sorte di gare che si fanno tra programmatori per vedere che è più figo. Quindi, in linea di massima, gli algoritmi proposti, quasi tutti lavorano su range di iteratori, come abbiamo visto in passato. Quindi hanno il loro nome e in generale operano su l'inizio e la fine, l'operatore dall'inizio alla fine, più eventuali altri parametri di riferimento. E gli algoritmi sono comunque molto interessanti, quindi partendo da swap, che semplicemente scambia due variabili, generalmente di qualsiasi tipo, abbiamo sort, che è una delle cose comunque che avviene spesso, che si usa abbastanza frequentemente, isSorted, che è il gemello di quello che stabilisce se un contenitore è ordinato oppure no, l'inversione di un array, il massimo, il minimo e la somma, la sommatoria di tutto questo. Due parole sul sort, sono andato a studiarmelo e praticamente è un nuovo, o meglio, un nuovo tipo di algoritmo chiamato introsort, o sort introspettivo, che è stato inventato bastante recentemente, nel 97, e di fatto cerca di utilizzare i tre algoritmi nello stesso modo, quindi parte col quicksort, che nel caso più standard è quello che ha la prestazione a me da migliore, ma al taglione di Achille, di casi peggiori, in cui può avere le brutte prestazioni. In questo caso, a un certo punto, se supera una certa soglia di lunghezza, passa al hip sort, e quando a furia di ordinare, sotto ordinare, arriva a delle dimensioni relativamente piccole, passa all'algoritmo iterativo, di, diciamo, classico che è l'insertion sort. Quindi, è per questo perché è adattativo, e quindi complessivamente è sempre nell'ordine di N logger to N, che sappiamo che è il valore medio ottimale per questo tipo di problemi. sugli altri, diciamo, c'è poco da fare, adesso su Accumulate non so se c'è tanto da agire, non so se utilizza magari cose parallele, però non lo so, può darsi che lo fa. Quello poi lo vediamo dopo, Marcello. Questo qui, l'Accumulate Standard, è facile come lo... è facile facile, cioè va su tutti gli elementi di somma. Esatto. Poi dopo potremmo arrivare a qualche sorpresa. Va bene. Altre cose, ci sono le copie, le copie, cioè due copie del backinserter dall'inizio, diciamo, vabbè, vi andate a vedere poi esattamente la differenza qual è, diciamo, uno allunga l'array, uno lo sostituisce, il soldo è questo qua, riempire l'array con un valore, togliere dei valori, sostituire la ricerca binaria, vedete già bella e pronta, la ricerca che restituisce un iteratore, e quindi ovviamente dipende da un tipo di iteratore, e contare quanti elementi sono uguali a quelli indicati. Quindi un bel bagaglio di strumenti già pronti all'uso, senza doversi riscrivere di volta in volta. Quindi, qualche esempietto, quindi semplicemente possiamo anche passare delle funzioni che vengono di fatto applicate ad ogni elemento, quindi il for each in questo caso ci permette di iterare tutto il vector in questo caso, e per ogni elemento stamparlo, quindi richiamando la funzione, vedete, una funzione abbastanza semplice che dovrà avere un parametro compatibile con quello che viene iterato, però, diciamo, for each semplifica la scrittura del programma, e lo rende anche, diciamo, parlante. Un altro esempio, appunto, si cerca, cercare un valore, in questo caso fa una ricerca sequenziale, quindi parte dall'inizio, arriva alla fine, cerca il numero 8, e alla fine controlliamo il valore restituito, che se è uguale alla fine, vuol dire che non ha trovato nulla. Se invece l'iteratore ha un valore diverso dalla fine, lo possiamo stampare, che ci punta direttamente al valore, e direi al primo valore trovato. Qui però, una precisazione, Marcello, qui stiamo stampando in che posizione si trova? L'indice, stiamo stampando l'indice. Se vuoi stampare il valore, devo poi... Devo dereferenziare l'iteratore. Esatto. Ma è un iteratore secco, oppure ti mette tutti i valori che ha trovato uguali a questo? No, è un find first, quindi è solo il primo. Se vuoi trovare gli altri, diciamo, dovresti ripetere find a partire dall'iteratore che ha trovato più uno. Esatto. Accumulate, famosa sommatoria, direi che il primo è abbastanza semplice, il secondo invece è più esoterico, questo me lo spiega Marco. Accumulate, come poi tanti algoritmi, hanno dei customization point, quindi dei punti dove si può personalizzare qualche operazione. In questo caso accumulate è una riduzione di tutti gli elementi ad un solo elemento del range. La riduzione avviene tramite una operazione binaria che si applica al primo elemento e al secondo e poi il risultato al terzo, il risultato al quarto e così via. Di default è una somma, quindi da qui viene la sommatoria 19, se abbiamo fatto bene i conti, poi servirebbe qualcuno che ha preso il dottorato per farci sta somma, però insomma forse Marcello tu riesci a farla. E andiamo su due lauree invece sull'accumulate col prodotto, lì proprio siamo a livelli estremi per fare il prodotto di tutti gli elementi che si fa con l'invocazione di sotto. Nell'invocazione di sotto abbiamo usato multiplice che fa il prodotto degli elementi, quindi possiamo andare a sostituire quell'ultimo parametro con l'operazione binaria da applicare sostanzialmente. Poi lì potete sbizzarrirvi a mettere quella che volete. Anche qui, questo sapevo che è un argomento che gli passo, gli lambda expressions, ma io non le tratto a fondo, quindi preferisco che parli il guru della questione. No, allora, in realtà l'argomento è come un iceberg, quindi la parte iniziale è abbastanza semplice, poi si può scendere deep nei meandri della complessità del linguaggio, però in linea di principio è un concetto semplice. Avete visto un paio di slides fa, qui in questo punto, che abbiamo utilizzato una funzione show per stampare ogni elemento. Sostanzialmente qui è abbastanza scomodo passare una funzione in questo modo qui, perché magari noi questo for each lo vogliamo eseguire soltanto in questo punto, ci piacerebbe scrivere la funzione direttamente nel punto in cui invochiamo il for each. Questo è possibile in tantissimi linguaggi, ed è possibile anche in C++, dal 2011, con l'introduzione appunto delle lambda expression, che le andiamo a vedere. Le lambda expression sostanzialmente sono dei generatori di codice, generano quelli che nello standard vengono chiamati function object. Marcello, forse, non so, vedo che si illumina il tuo pop-up, quindi non so se i ragazzi stanno avendo dei rumori in cuffia in più, io forse sento qualche... Ok, perfetto, grande. Quindi forse era quello. Molti algoritmi, come vi dicevo, hanno dei customization point, come abbiamo visto nell'accumulate. Quello che va passato a questi algoritmi è una function object. Il function object è un oggetto che ha un operatore particolare di cui viene fatto l'override, che è il call operator. Quindi il call operator è sostanzialmente un operatore che consente di invocare l'oggetto. Ok, questo qua è un esempio. Ok, questa struct logger ha un operatore, va a definire un operatore che è il call operator che si fa con quella sintassi lì, che quando viene invocato con una stringa, stampa la stringa su schermo. Quindi io potrei usare il for each anche passandogli un'istanza di quella struct lì, del logger. Però, come vi dicevo prima, in molti casi è scomodo dover definire una funzione o addirittura una struct in ogni punto in cui dobbiamo invocare una funzione, potremmo invece usufruire appunto di queste lambda expression che sono per noi dei generatori di questi function object e si vanno sostanzialmente a scrivere in questo modo. Cioè, con una sintassi che non è bellissima, diciamo così, però è funzionale al suo scopo, quindi ci sono queste due quadre che hanno un significato perché all'interno delle quadre lo vedremo dopo, noi possiamo andare a definire delle ulteriori variabili che poi possono essere utilizzate nella lambda, nel corpo della funzione, poi c'è la lista invece dei parametri che la funzione prende e poi ovviamente quello che la funzione deve fare e le possiamo definire contestualmente al loro utilizzo. Quindi è molto molto comodo per scrivere codice compatibile con gli algoritmi STL in maniera molto molto veloce e le lambda expressions sono state una chiave di volta, diciamo così, per l'utilizzo dell'STL dal 2011 in poi perché molte persone in passato avevano un po' la scusa di dire è però usare gli algoritmi in alcune situazioni è scomodo perché non abbiamo un modo veloce di passare delle funzioni soltanto dove ci servono, invece adesso non ci sono più scuse. Ci sono dei dettagli ovviamente, potremmo scendere, veramente potremmo parlarne per tanto tempo. C'è un mio amico che ha scritto un libro intero su tutti i dettagli delle lambda expression e per dirvi quindi quanti dettagli ci sono dovete sapere questo, le lambda expression generano dei function object, quindi delle classi vere e proprie che quindi possono avere uno stato. Avere uno stato significa che possono avere accesso alle variabili dello scope in cui queste lambda sono state generate. ad esempio in questo for each noi andiamo a catturare il verbo catturare è usato a proposito perché si dice catturare una variabile e chiuderla nella lambda. Infatti altri linguaggi usano anche il termine di closure, c'è anche un linguaggio di programmazione che si chiama closure che significa proprio chiudere una variabile all'interno del proprio scope. in questo caso qui andiamo a riferirci e quindi andiamo a chiudere su questa variabile counter e lo andiamo a fare per reference quindi andiamo proprio a prendere un alias a questa variabile. C'è anche un'altra modalità di catturare queste variabili ed è la modalità per valore quindi vado a copiarmi il valore della variabile dentro la mia lambda qual è la differenza è che ovviamente gli effetti che io di modifica che io farò su una variabile catturata per reference hanno effetto anche negli altri punti in cui questa variabile è referenziata. Possiamo definire addirittura delle variabili dentro questa capture list quindi dentro queste parentesi quadre quindi posso definire che non so la mia variabile pippo come vedete qui non ho neanche dovuto specificarne il tipo il compilatore lo deduce per noi possiamo addirittura nella lista dei parametri non usare il tipo ma far sì che il compilatore lo deduca per noi mettendo auto quindi queste lambda expression sono dei veri e propri generatori di codice molto molto generici molto molto sofisticati ci permettono veramente di fare delle cose incredibili però io direi che posso fermarmi qui yes perché se no entriamo in dettagli troppo troppo arditi dunque ah io avevo il microfono troppo alto il sì l'autoparano troppo alto quindi c'era un rientro immagino adesso dovrebbe essere adesso secondo me sì sì secondo me siamo perfetti ok e quindi con questo avete un po' visto gli algoritmi sono cose da provare essenzialmente divertirsi un po' fare giocare dopo magari vediamo se se provarlo direttamente e vediamo l'ultimo diciamo pilastro della programmazione diciamo non posso più dire moderna perché ormai moderno non si può dire però diciamo ormai la programmazione è un oggetto un classico e quindi dunque riprendo il controllo ah sì scusa aspetta che ti devo ridare l'hai fatto ok perfetto perfetto e e vediamo un po' la programmazione agli oggetti cosa che probabilmente molti di voi hanno visto comunque lo rivediamo per chiarezza ed è uno dei algoritmi di programmazione più diffusi immagino quello più diffuso anche se qualcuno lo denigra per una serie di debolezze soprattutto nei software particolarmente grossi ma diciamo è un programma di presentazione che definisce diciamo tutta la struttura della programmazione tramite oggetti che hanno dei funzionamenti indipendenti ma soprattutto possono interagire con gli altri scabbiando i cosiddetti messaggi in realtà nasce come una estensione di una struttura più semplice la struttura che abbiamo accenato prima oppure come avevamo visto nell'altra lezione una forma di aggregazione creazione di variabili complesse di tipi diverse contraposto a quello degli array che era una strutturazione per tipi uguali quindi in realtà in questo modo che è un modo tipico del C già potevamo creare dei tipi di dati infinito complesso formato da due parti e utilizzarlo come se fosse un tipo di dato assolutamente nuovo e giocarci utilizzando varie cose e il punto chiave era l'uso dell'operatore punto per accedere ai singoli elementi che costituivano la struttura eccetera e poi trattandosi di C il C permetteva di usare appunto le funzioni anche come variabili però lì era già un pochettino più complicato diciamo che comunque la base del lavoro degli oggetti è stato fatto in questo modo quindi la cosa poi si è evoluta ed è diventato questo paradigma di programmazione molto diffuso e diciamo che senza entrare troppo nei dettagli è basato sui famosi quattro bilassi che sono incapsulamento astrazione polimorfismo e ereditarietà noi non parleremo in dettaglio di cosa sono lo diamo un po' per scontato e vediamo più che altro come il C++ applica questi principi dal punto di vista del linguaggio quindi il primo principio è l'incapsulamento che ci dice che un oggetto deve avere al suo interno tutto quello che lo riguarda quindi in particolare i suoi attributi le sue caratteristiche quindi le variabili in pratica e i metodi o meglio le funzioni che sono necessarie per il suo funzionamento la sintassi prevede la parola chiave class seguita da un identificatore e poi dopo la parola chiave public che vedremo tra poco una semplice dichiarazione di variabili e di funzioni in realtà l'inchiarazione delle funzioni può essere fatta in due modi in questo modo appunto abbiamo solo la dichiarazione dentro all'oggetto e poi da qualche parte possiamo fare invece la definizione un po' come accade con gli include in cui definiamo prima il pronome della funzione e poi la implementiamo e in principio essenzialmente questo ma si può fare anche tutto internamente quindi questo diciamo lo rende l'uso che ho messo sotto è molto simile a quello della delle strutture in realtà comunque no va bene dopo non si vede bene perché forse ci manca un esempio in cui dichiaro una variabile tipo punto tanto per fare le prove però insomma ve lo potete immaginare il secondo punto è l'astrazione l'astrazione vuol dire nascondere tutto quanto non strettamente necessario di fatto per proteggere il programmatore da se stesso quindi per evitare che il programmatore vada avido oppure troppo curioso vada a modificare delle variabili o vedere delle cose di cui non avrebbe diritto per vedere e questo viene realizzato tramite alcune classi di visibilità le classi sono tipicamente tre public private protected e permettono di nascondere i dettagli implementativi e quindi proteggere gli oggetti implicitamente questo forza il programmatore che costruisce un oggetto a costruire alcuni metodi specializzati per la manipolazione dei dati in particolare i famosi getter e setter che permettono di accedere alle variabili che sono private quindi altrimenti non sarebbero disponibili costruttore e distruttore che sono particolari funzioni che vengono chiamate nell'atto della creazione e della distruzione degli oggetti questo è un argomento particolarmente complicato soprattutto nel momento in cui andiamo a creare le variabili in modo dinamico per cui insomma lo acceniamo ma non andiamo a fondo in realtà è possibile anche violare queste regole tramite la parola che chiama è friend che permette anche a funzioni oggetti che non sono diciamo parte della famiglia che abbiamo creato di accedere ad alcuni elementi questo può essere importante soprattutto per l'esempio che ho visto è per esempio per fare l'operatore di stream ecco per semplificare alcune questioni quindi quindi l'esempio classico che facciamo è avere una classe cerchio in cui diciamo la caratteristica principale è il raggio e quindi viene in qualche modo protetto dal controllo dall'uso dell'utente e abbiamo una serie di funzioni o metodi che utilizzano indirettamente e quindi l'utente può sapere l'area può sapere il raggio evidentemente altre cose ma non può per esempio in questo caso in nessun modo andarne a cambiare il raggio un raggio che probabilmente è stato creato con un costruttore l'ereditarietà l'ereditarietà è invece il meccanismo che permette di espandere funzionalità riusando il codice delle strutture esistenti quindi si crea una gerarchia di oggetti partendo da un oggetto il più possibile generico per diciamo aggiungendo dei dettagli ottenendo degli oggetti sempre più specializzati che ci permettono di fare cose pur riutilizzando in tutto in parte il codice che è già stato scritto da altri quindi presolutamente testato funzionante senza dover anche qui reinventare l'acrocard al contrario di molti altri linguaggi che vanno per la maggiore è possibile l'ereditarietà multipla l'esempio che vi faccio è un esempio anche questo classico diciamo di avere un punto cartesiano che è dotato di due dimensioni x e y e definiamo un figlio punto 3D che aggiunge una nuova una nuova coordinata e poi dopo ovviamente bisogna anche cambiare altre cose qui ho fatto solo l'esempio classico aggiungo anche che semanticamente non è proprio un esempio ideale perché abbiamo detto e dovrebbe essere che l'ereditarietà dovrebbe andare verso oggetti sempre più specializzati qui accade esattamente il contrario quindi non è diciamo un esempio di scuola però è un esempio chiaro per comprendere come funziona un altro l'ultimo diciamo pilastro fondamentale è il polimorfismo che viene dal greco molte forme e permette di gestire più funzioni dello stesso nome questa è una cosa che in C non si può fare e anzi viene sanzionata dal compilatore in modo molto forte e invece semplifica abbastanza il lavoro del programmatore può rendere il tutto anche più comprensibile ovviamente essendoci più versioni della stessa funzione occorre un criterio che per stabilire quale versione deve essere effettivamente eseguita per questo ci sono diverse modalità e anche diverse varianti il primo la prima versione la più semplice se vogliamo di polimorfismo è il cosiddetto overloading quindi ci permette di definire più versioni all'interno di un metodo di un stesso oggetto o in realtà anche al di fuori degli oggetti questo vale per le funzioni in generale utilizzando più firme quindi possiamo fare vedete questa funzione fu che ha come parametro intero e è una funzione che ha come parametro una stringa e se gli passiamo una stringa in realtà chiameremo la seconda versione se passiamo un intero passeremo la prima quindi i parametri possono quindi sulla base di questo il compilatore sceglie la versione giusta questa secondo me è la versione più semplice la seconda invece è un po' più complicata e permette di ridefinire una funzione definita nella classe padre o nella classe genitore nelle classi figlie in modo che in modo da adattarsi per esempio alle caratteristiche dei figli o se ha qualche funzione qualche variabile in più oppure deve fare delle cose diverse magari la versione del padre anche che può andare bene per alcune varianti non va bene per il nostro oggetto figlio nel c++ questa cosa va esplicitata con la parola chiave virtual per esempio in altri linguaggi per esempio in java non c'è bisogno perché è considerato automatico anche se è opportuno segnalarlo in qualche modo quindi l'overriding in questo senso richiede che sempre nella famosa classe logger di riferimento che noi indichiamo la funzione che potenzialmente può essere override con la parola chiave virtual questo c'è un marcatore che segnala al compilatore e anche al programmatore che lo usa questa caratteristica e a questo punto quindi se vogliamo overrideare la la funzione la ridefiniamo semplicemente nel figlio con la parola chiave override che segnala a sua volta il fatto che questa sostituisce la funzione del genitore o del nonno o di o di quello che è e a questo punto aggiungiamo un concetto molto importante tipico soprattutto nel caso della della progettazione di di un software abbastanza complicato che è l'interfaccia l'interfaccia viene definita come un contratto che una classe si impegna a rispettare quindi semplicemente una serie di funzioni possiamo dire forse delle API ecco come come concetto e stabilisce diciamo si lega un po' al concetto anche di al di fuori dell'ambito della programmazione di omologazione io se devo fare un dispositivo che usi il bluetooth io dichiaro che uso che implemento correttamente in prefaccia il bluetooth e quindi sono ragionevolmente sicuro che il mio dispositivo funzionerà bene con tutti i orpelli che ci possono essere e lo stesso accade un pochettino nel software quindi noi dichiariamo quello che vogliamo come lo vorremmo ma lasciamo la libertà ai programmatori di implementare tutto quello che viene realizzato come vogliono e permette poi alcune cose molto interessanti ora in molti linguaggi tipo Java C Sharp andremo anche a vedere c'è una keyword specifica che segnala l'interfaccia in C++ invece che è un linguaggio come abbiamo detto multiparadigma viene realizzato con le cosiddette funzioni virtuali pure le funzioni virtuali pure sono semplicemente dei segni a posto possiamo dire in cui segnaliamo che vogliamo questa funzione avrà questi parametri avrà avrà questo nome ma di per sé non possiamo istanziare un oggetto che abbia solo queste funzioni pure perché di fatto le funzioni non ci sono ancora in Java queste sono le cosiddette abstract classes in C Sharp un'interfaccia viene realizzata in questo modo con la parola chiave interface e quando viene definita semplicemente si dichiara la funzione e in Java in modo molto simile c'è la parola chiave implements e vedete un po' la stessa cosa cambia solo la sintassi invece in C++ è un pochettivo più articolato dove si segnala la funzione virtuale con uguale a zero proprio per segnare che è una funzione puramente virtuale quindi di fatto non esiste dopodiché nella classe che implementa questa interfaccia semplicemente la creiamo e funziona in modo analogo alle altre funzioni override date quindi complessivamente il punto è quello di esprimere il concetto di sostituibilità quindi come abbiamo fatto l'esempio di bluetooth quindi se io cambio a un certo punto il dongle che utilizzo deve poter funzionare anche se lo attacco da un'altra parte anche se ha delle caratteristiche diverse di portate eccetera eccetera quindi a questo punto permette di dare delle idee di funzionalità generali e dopo di implementare come vogliamo le nostre funzionalità in vari metodi senza diciamo impattare il codice del client del programma che lo usa ed è un po' l'applicazione anche dei principi di progettazione e cosiddette solide il cosiddetto principio open closed che permette appunto di estendere le funzionalità senza andare a toccare il codice forse ho parlato anche troppo magari lascio Marco a finire questa cosa che gli piace molto esatto no allora volevo tornare soltanto indietro qui per fare soltanto una precisazione magari soprattutto per chi riguarderà il video insomma potrebbe esserci qualcuno anche più esperto quindi c'è quel virtual sul distruttore il virtual sul distruttore non è l'unico modo di esprimere un'interfaccia in C++ cioè ovviamente la cosa fondamentale come diceva Marcello sono quelle funzioni virtual uguale a zero quindi quelle funzioni virtuali pure come si dice il virtual sul distruttore è diciamo così una delle convenzioni più utilizzate per creare delle interfacce che permettono diciamo maggiore flessibilità però non è obbligatorio ci sono delle casistiche dove il virtual nel distruttore può essere omesso questo è un po' fuori dal dal corso però ci tenevo a fare soltanto questa precisazione appunto perché potrebbe arrivare qualcuno e chiedere ma come mai è stato usato un virtual distruttore quando magari ci sono tutta una serie di esempi dove il virtual distruttore non è non è menzionato quindi è uno degli approcci più flessibili più utilizzati però non è l'unico quindi sappiate che non è che non è l'unico la cosa fondamentale però è la lista di funzioni virtuali pure quindi se esiste una funzione non virtuale pura non è più un'interfaccia ok come la intendiamo nel mondo dell'obgetto oriente allora andando questo qui giusto un esempio per farvi vedere come un modo per passare in giro un'interfaccia non possiamo passarla per valore dobbiamo passarla o per puntatore o per reference ok quindi ad esempio qui abbiamo un console logger che può essere passato in quella funzione lì o anche un file logger che può essere passato a quella funzione lì ovviamente console logger e file logger sono delle implementazioni dell'interfaccia ai logger che cosa va a succedere se noi proviamo a passare per valore per copia un'interfaccia ma in generale una classe astratta quindi anche una classe che ha parte dei metodi virtuali puri ma non tutti il compilatore non si lamenta ma under the hood diciamo così dietro le quinte andrà a fare quello che si chiama lo slicing cioè la copia degli oggetti in c++ avviene sempre staticamente cioè a livello di compilazione vengono decise i tipi che devono essere copiati sostanzialmente quindi il cosiddetto tipo runtime non viene preso in considerazione quindi in questo caso la copia verrebbe fatta solo di quel console logger solo della parte della base class e non ovviamente della parte del console logger e quindi in questo caso qui se io poi andassi ad invocare logger punto log in questo caso qui avrei un comportamento anche molto pericoloso perché se ci va bene il compilatore si romperà poi a runtime dicendoci che sto chiamando un metodo virtuale puro però in generale è quello che si chiama un undefined behavior quindi potrebbero succedere cose spiacevoli la cosa migliore ovviamente quindi è passare questi oggetti o per reference o per pointer o ci sono diciamo delle tecniche anche un pochino più più sofisticate questa è una domanda che un po' va a riprendere qualcosa che è stato che è stato discusso la volta scorsa credo Lorenzo forse fece questa domanda come posso mettere in un vector degli oggetti astratti avevamo visto un paio di un paio di esempi uno con eni però effettivamente la domanda poi sorge un po' spontanea come posso mettere in un vettore quindi come posso anche memorizzare nelle mie nelle mie classi degli oggetti polimorfi è un sicuramente qualcosa che va un pochino pochino al di là dei contenuti base potremmo vederli nei bonus adesso cerchiamo di capire che cosa vogliono dire questi contenuti bonus sappiate che una delle possibili soluzioni potrebbe essere utilizzare un wrapper che è previsto nello standard che ci permette di incapsulare dei puntatori che vengono poi gestiti dinamicamente però in maniera automatica quindi questo è un po' per rispondere alla domanda di Lorenzo della volta scorsa e a questo punto se non ci sono delle domande visto che abbiamo un'altra bella oretta possiamo passare ai contenuti extra quindi intanto chiedo ci sono domande anche ovviamente per Marcello noi unique printer cosa fa? adesso adesso ci possiamo dovete decidere voi cosa facciamo adesso quindi potrebbe essere parte delle domande o meno allora aspetta che devo fare il solito dovevamo usare i puntatori il meno possibile esatto sì infatti quello lì non è un vero e proprio puntatore quindi allora intanto vi do qualche seconda se ci sono domande dopodiché se non ci sono andiamo nella parte di voting di votazione dove deciderete voi quali contenuti volete vedere adesso quindi vedo Lorenzo che sta scrivendo Lorenzo io ho la curiosità sì allora se noi definiamo una funzione senza virtual quella non può essere non puoi fare l'overwrite non può essere sovraccaricata esatto se la faccio con virtual può essere sovraccaricata la funzione che sovraccarica può essere a sua volta virtual intanto ok come mi hai scritto si mette il final sì esatto si può usare un final per bloccare diciamo l'ereditarietà può fare sia a livello di classi che a livello di funzione quindi se io la mia funzione iniziale la definisco final di fatto non potrà mai essere sovraccaricata esatto la domanda è non c'è un'inconsistenza perché a questo punto una funzione che non viene dichiarata virtual risulta uguale a una funzione che viene dichiarata final cioè non ciò voglio dire sì allora c'è un po' di maneggio di keyword mi sembra la differenza è che con final il compilatore ti avvisa se stai provando a fare qualche casino sì mentre con se non lo fai non ti avvisa quindi se la se la funzione non è né final né virtual ma tu in una derivata ne fai l'override in realtà non ne stai facendo l'override ma ne stai facendo quello che si chiama comunemente un hiding quindi la stai nascondendo e si entra si entra in dei problemi incredibili ci sono anche dei trucchi in alcune librerie per far sì per accorgersi se qualcuno sta facendo hiding ma si entra questi sono i punti che rendono il C++ comunque complesso anche perché negli anni dovendo mantenere la retrocompatibilità alcuni chiamiamo errori ma diciamo errori magari non sono però non sono stati corretti proprio perché devi garantire che il codice degli anni 80 compili perché se no Doom non compila più Quake non compila più e quindi forse Doom non era neanche scritto così quando fai l'hiding quindi la funzione che viene chiamata in realtà dipende dal tipo su cui viene chiamata non c'è più dispatching vado a prendere o una o l'altra quando fai l'hiding sostanzialmente tu stai sempre andando a chiamare perché la funzione viene sempre risolta sul tipo statico diciamo così a meno che se tu fai un logger base e chiami la funzione log supponi che non sia virtuale quella chiama sempre la log della base ah ho capito e puoi mutarti per fuori perché sento un ritorno più che altro perché poi finisce nella registrazione eh infatti ok perfetto se invece una sua derivata ridefinisce quella log la sta effettivamente nascondendo e quindi se tu poi vai a chiamare se pensi di chiamare log da una derivata eh no se hai un logger che viene creato a partire da una derivata intanto potresti avere il problema dello slicing se l'hai creata per copia sostanzialmente ma seppure l'avessi copiata per pointer eh oppure con una reference e quant'altro quando vai a chiamare log in realtà non stai chiamando quella della derivata ma stai chiamando quella della base perché non è stato fatto veramente un override quindi la risoluzione poi non passa per quella che si chiama la virtual table quindi la virtual table è questa tabellina diciamo così che viene definita dal compilatore da qualche parte che ti consente che consente automaticamente di risolvere queste funzioni eh virtuali altrimenti le funzioni sono quelle quindi se non sono virtuali sono quelle della base sostanzialmente ok grazie a meno che ovviamente non stai creando direttamente una derivata e se chiami il log della derivata che magari è un log proprio ridefinito chiami quella però se se stai copi stai partendo da un log base sei sei fregato purtroppo e qui il compilatore diciamo ti dà un warning probabilmente però non ti dà un errore mentre con final ti dà un errore quindi la diciamo la differenza fondamentale è quella lì altre domande che ci sono vedo Lorenzo che sta scrivendo quindi aspettiamo qualche intanto facciamo così intanto vi condivido il link per allora ecco Lorenzo dice come viene gestita sotto la scocca un metodo che accetta vari tipi di dato quindi ad esempio template e come overriding allora l'overriding viene gestito appunto da queste virtual table quindi è come se ogni classe base avesse da qualche parte una tabellina potete immaginare una tabellina contenente per dirla semplice dei puntatori a funzione quando viene creata un'istanza questi puntatori a funzione vengono sostituiti per dirla semplice con le funzioni ad esempio della classe derivata quindi se io ho un iLogger avrà inizialmente un puntatore a funzione che punta a null perché quello uguale a zero tendenzialmente vuol dire proprio quello punta a null quindi se io invocassi la funzione virtuale log che è uguale a zero è come se stessi invocando un null pointer per dirla facilmente quando viene creato il console logger quel puntatore a funzione viene sostituito con il puntatore a funzione del console logger quindi quando il compilatore poi a runtime dovrà generato il codice per noi che chiamerà quella funzione andrà effettivamente a chiamare la funzione log del console logger ovviamente questa cosa qui potrebbe essere anche potrebbe avere una catena chiaramente perché se ho una gerarchia molto lunga se ho delle classi in estate e quant'altro questa virtual table potrebbe anche fare più salti potenzialmente però ecco questo qua sul template potremmo potremmo vederlo dopo diciamo che è un pochino un pochino diverso il discorso ma immaginiamo che il template anche quello è un generatore di codice un po' come erano le lambda quindi il template consente al compilatore di essere istruito sul generare del codice per noi questo è un po' il discorso del template a questo punto io vi lascio questo link e proviamo anche a mettermi come presentatore quindi forse riesco a condividervi lo schermo qui eccolo quindi se andate a quel link dovreste poter poter con calma insomma provate a provate a scegliere provate un pochino a scegliere quello che quello che quello che può essere per voi se doveste darmi la vostra carta di credito a me e a Marcello qual è l'argomento che vorreste sentire ovviamente la vostra carta di credito l'abbiamo rubata quando vi siete erogati su questo portale questo non ve l'avevamo detto ma insomma Zomparelli ha fatto questa sorpresa di rubare tutti i vostri dati vedo che stanno votando adesso i risultati come vedete sono ancora nascosti per così non vi influenzate a vicenda questo è un po' il tentativo però come vedete ci sono già otto persone che hanno votato quindi magari aspettiamo che votano votino una dozzina di persone almeno quindi provate anche i nomi degli argomenti sono ovviamente dei nomi che un pochino abbiamo accennato come Marcello volutamente confusi e vaghi sì esatto sono magari termini che abbiamo accennato qualche volta dei termini che sono passati magari la volta scorsa o l'avete sentito in giro insomma vediamo un po' quello che esce fuori vediamo un po' anche perché il tempo a disposizione ovviamente non è tanto anche perché insomma dopo una giornata intera magari di lavoro di scuola di quello che è chiaramente non vogliamo neanche darvi proprio il carico da 11 come si dice per distruggervi totalmente farvi fare degli incubi stanotte ecco però insomma siamo a 12 proviamo visto che siamo sì secondo me abbiamo votato penso avete votato tutti perché ci siamo anche noi tre quindi noi non votiamo e forse mancano un paio di persone una persona magari ma ok proviamo a vedere i risultati 3 2 1 via ha vinto concorrenza e parallelismo ok poi non so se mi fa vedere anche gli altri posti no non me li fa vedere gli altri insomma gli altri ok non me li fa vedere però magari riesco a recuperarli io intanto di qua sono curioso di vedere perché volevo definire l'ordine di come poi parlare di questi di questi argomenti vabbè comunque andiamo facciamo così aspettate facciamo una cosa il primo che ha vinto è concorrenza e parallelismo potremmo provare a farne un altro al volo per vedere vabbè se no no cominciamo da concorrenza e parallelismo dai allora qui io ho preparato una serie di una serie di contenuti bonus con tutti e quattro quegli argomenti ok cominciamo quindi da concorrenza e parallelismo però prima di iniziare il disclaimer che io devo fare in generale sull'apprendimento del C++ è che magari le prime lezioni le prime cose sono sempre un pochino più carine sono sempre un pochino più interessanti uno sempre molto entusiasta però solitamente poi la vicenda va così vediamo se è riuscito a interpretare un po' la GIF ecco più o meno questo è un po' l'impatto che si ha con il C++ all'inizio magari certe cose risultano facili le cose sono carine tutto quanto però poi quando si entra un po' nei dettagli c'è tipo l'impatto con le montagne russe quindi la bambina vuole andare sulle montagne russe poi appena fa il primo picco e scende poi tipo morta di paura o insomma quindi questo è il disclaimer che mi sento di fare mi sento di fare perché cioè comunque ci passo continuamente quindi insomma vorrei vorrei farlo in maniera onesta allora iniziamo quindi da concorrenza e parallelismo concorrenza e parallelismo sta qua io l'avevo ordinato veramente senza un criterio quelli nelle mie slide quindi era giusto per come mi veniva comodo allora concorrenza e parallelismo che cosa significa significa che per tantissimo tempo C++ non ha avuto mai un supporto standard per concorrenza e parallelismo quindi per dirla banalmente per thread e per distribuzione di carico su più core ad esempio o su più macchine o qualcosa del genere dal C++ 11 quindi dal 2011 arriva il supporto per la concorrenza ok questa è una piccola una piccola timeline di quello che è stato aggiunto alla concorrenza e il parallelismo anzi tra l'altro secondo me sto usando delle slide vecchie vabbè no forse no C++ 11 aggiunge la maggior parte delle cose quindi aggiunge il supporto per thread per il supporto per i mutex di Atomic i future che adesso li guardiamo per chi non sa cosa sono ovviamente fa delle modifiche al memory model quindi alla gestione diciamo della memoria alcuni cavilli che c'erano per accomodare un po' queste queste modifiche allo standard e poi vengono fatte delle aggiunte anche di altri concetti nelle versioni successive quindi nel 17 abbiamo appunto il supporto per gli algoritmi paralleli che consistono adesso lo vediamo velocemente consistono nel poter usare gli algoritmi che poi ha fatto vedere un po' Marcello in maniera parallela senza dover fare granché lato nostro come programmatore c'è un supporto alle QRoutine le QRoutine potete immaginarle come gli async e await di C Sharp per chi li conosce sono un modo per scrivere delle funzioni che possono essere messe in pausa e possono essere riesumate quando determinate quando determinate cose sono sono pronte per esempio se io devo fare una lettura da una socket per dirla banalmente possiamo scrivere delle funzioni con delle QRoutine che possono essere sospese finché la socket non è pronta e poi può essere questa funzione può essere risvegliata quando la socket finalmente ha trasmesso dei dati per dirla facilmente c'è ancora tanto lavoro su questi argomenti del parallelismo della concorrenza nel 23 potremmo vedere la luce anche di quelli che si chiamano gli esecutori gli executors cioè la possibilità di lanciare del codice o delle computazioni in maniera eterogenea quindi la possibilità magari di metterli su un'altra macchina su un processo diverso o anche semplicemente gli implementatori delle librerie potrebbero sfruttare questi executors per scrivere magari del supporto per esempio per andare sulle GPU o cose del genere però questa qua è un argomento molto molto in fermento ci stanno veramente lavorando da tanti anni ancora non sono trovati non hanno ancora trovato una quadra come si dice esempi thread la cosa più semplice che potrebbe venire in mente di fare è quello di scrivere un thread prima del c++11 bisognava scrivere o con i pthread sotto linux o con i thread di windows per andare sotto windows insomma era un disastro oppure si usavano ovviamente delle librerie come boost o come cutie o come altre come altre che comunque esistono da tanti anni come si scrive un thread sostanzialmente si passa all'interno del thread un function object quelli che vi facevo vedere prima o comunque una funzione o quindi una lambda e questa verrà poi potenzialmente schedulato su un altro su un thread appunto ovviamente un thread leggero come si dice poi eventualmente rilocato su un thread fisico nel caso del sistema operativo però questo per noi è abbastanza siamo abbastanza distanti da questo dettaglio alla fine ovviamente bisogna fare un join del thread quindi bisogna aspettare che questo thread finisca se io non faccio join del thread ho un problema a runtime ok quindi bisogna fare join del thread in versioni successive dello standard è stato aggiunto anche un jthread che alcuni hanno trizzato un po' i capelli hanno detto ma che mi stai mettendo della roba java dentro il c++ hanno detto no buoni j sta per join cioè che fa un join automatico nel distruttore ok quindi in questo questo è un altro esempiuccio molto molto semplice abbiamo un vettore di questi jthread che potrebbe emulare un thread pool possiamo mettere dentro il vettore una serie di calcoli che vogliamo andare a fare in questo for quindi li andiamo a creare poi ovviamente quando io vado a creare un thread questo viene lanciato automaticamente però che cosa succede che al termine dell'uscita di scope ovviamente abbiamo che tutti i jthread verrà fatto un join su tutti i jthread quindi verranno diciamo così aspettati ok un altro concetto che è stato introdotto ed è forse non tutti sono familiari anche perché si chiama in maniera diversa in altri linguaggi non tutti hanno questa stessa terminologia è il concetto di future il future è sostanzialmente un immaginatelo come un contenitore come una scatola dove io potrei andare a mettere un valore da un certo thread per esempio e da un altro thread voglio poter accedere questo valore o voglio controllare se questo valore è arrivato ok ci sono alcuni modi per creare questi future nel c++ uno di questi modi è utilizzare la funzione async la funzione async fondamentalmente lancia per noi un thread poi ci sono dei dettagli che possono far sì che il thread non venga lanciato però immaginate che lancia per noi un thread dove esegue una certa funzione che noi gli diamo ripeto funzione uguale lambda uguale function object ogni volta che io dico funzione qui la possiamo intercambiare con il concetto di lambda o di function object stiamo parlando della stessa cosa in questo caso ho messo una funzione ma potrebbe essere una lambda questa funzione viene eseguita quando questa funzione ritorna scriverà diciamo così il runtime per noi andrà a prendere il ritorno di questa funzione lo andrà a incastrare dentro questo future che mi è stato tornato in chiamata alla funzione async quindi io potrei fare nel frattempo degli altri calcoli delle altre operazioni e poi potrei andare a chiedere il valore al future ovviamente quando io mi fermo a chiedere il valore al future mi sto bloccando in attesa che questo valore sia pronto ok la cosa interessante del future è che può incapsulare anche un'eccezione quindi se la funzione tira eccezione quella get tira eccezione quindi questa scatola diciamo così che viene gestita dal linguaggio è una scatola molto ricca di significato perché non ha soltanto un valore dentro potrebbe avere anche un errore in questo caso con la funzione async è diciamo così il linguaggio che per noi decide di schedulare un thread di far girare la nostra funzione di fare questo collegamento tra il valore che ritorna la nostra funzione e questa scatola questo future ci sono molti scenari in cui voglio io poter gestire quando mettere dentro la scatola il valore esempio ho dei thread di un'altra libreria oppure ho delle funzioni che devono essere passate in giro e non posso andare a infilare quel valore arbitrariamente quando lo decide il runtime voglio deciderlo io come si fa? con il concetto di promise che qui appunto ha come terminologia è differente rispetto a quella di altri linguaggi ad esempio in javascript la promise è questo direi se non vado errato mentre la promise in c++ è l'altro estremo del tubo del future sostanzialmente ed è questo esempio qua ovviamente qui non ha tanto senso l'esempio però era per farlo molto perché qui potevamo usare a sync ovviamente però è per farvi capire il concetto che cosa succede creo una promise questa a questa promise posso farmi dare da questa promise posso farmi dare il future che è come se fosse un handle che io posso usare per prendere il valore da questo contenitore passo in giro la mia promise ok posso passarla anche ad un'altra libreria insomma se la sa gestire potrei passarla a dei thread miei posso fare un po' quello che voglio però mi rimane il future in mano quindi la gestione è quella di prima questo future io lo posso andare a controllare come facevo prima ma nel frattempo posso andare anche da qualche altra parte a settare il valore della promise ok posso anche settargli un'eccezione chiaramente ok quindi questo è veramente la punta 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 dell'iceberg proprio punta perché c'è c'è un libro che poi dopo vi faccio vi linko se vi interessa che spiega tutti i concetti della concorrenza del C++ introdotti dal C++ e anche aggiornati fino al 17 è un mare di roba mutex condition variable atomic memory model le barriere tantissima roba però per fare delle prime cose uno potrebbe anche iniziare a giocherellare con questi concetti qua ok parallel STL che cosa vuol dire vuol dire che a un certo punto hanno detto abbiamo tanti bellissimi algoritmi i nostri utenti li stanno utilizzando perché non rendere i parallelizzabili in maniera più o meno trasparente e così è stato quello che hanno fatto è sostanzialmente creare delle policy non entriamo nel dettaglio ci sono delle policy di esecuzione che gli implementatori della libreria standard possono sfruttare per accelerare i nostri algoritmi secondo certe regole ok ad esempio possono vettorizzare una cosa tipo accumulate che ha fatto vedere prima Marcello non è esattamente accumulate accumulate uno degli algoritmi che non è stato veramente scelto per essere parallelizzato gli hanno cambiato nome l'hanno chiamato reduce un po' alla map reduce però tanti altri algoritmi sono stati resi parallelizzabili per esempio partial sum con anche altre varianti oppure insomma la find possiamo fare la find parallela e hanno ci sono diverse policy vediamo un esempio qui sto riempiendo un vettore di numeri random e poi sto facendo il massimo come vedete nel primo caso quindi qui sotto sto andando a fare il qui sotto sto andando a fare il il calcolo standard del massimo quindi linearmente senza parallelismo invece nel secondo caso sto andando semplicemente ad aggiungere come vedete questo tag par per andare a fare il calcolo invece in parallelo quindi sto chiedendo alla libreria standard per favore parallelizzami la ricerca del massimo elemento di questa sequenza di questo vettore sto chiedendo perché ci sono tutta una serie di regole per le quali ovviamente l'implementatore della libreria potrebbe non farlo se le sue policy interne magari valutano che non è il caso quello che io passo è una sorta di hint al compilatore sto cercando una sorta di suggerimento ok passo alla libreria un suggerimento però diciamo che le policy poi uno se le può andare a vedere in dettaglio insomma c'è veramente tanta carne al fuoco e come vedete qui se uno usa gli algoritmi STL ha le cose gratis praticamente quindi può essere tutto parallelo senza tanto sforzo per dettagli c'è ovviamente questo è il libro forse migliore in assoluto per studiare roba di parallelismo e concorrenza in C++ fino al C++17 quindi non ci sono le coroutine sulle coroutine c'è tantissimo c'è un po' di materiale in giro però c'è anche tantissima complessità che va domata diciamo così però ecco se volete approfondire questo è probabilmente il punto di riferimento numero uno per la concorrenza ci sono domande fino a qua la gente non è morta se siete vivi ovviamente se siete ancora qui una domanda se io volessi fare andare un tipo un thread molto lungo tipo un servizio che ascolta su una porta e potrei per esempio volerlo fare su più porte contemporaneamente di fare multi-thread devo per forza farlo alla fine la join allora tu quello che puoi fare esiste anche la possibilità di creare un thread che è come si dice detached quindi un thread che non che è diciamo distaccato ok in quel caso lì potrebbe essere il potrebbe essere il tipo di thread che fa il caso ovviamente ci sono anche lì delle condizioni da rispettare però c'è appunto questa possibilità di creare un thread che si stacca diciamo dal flusso di esecuzione in maniera tale che se esce di scope poco importa la cosa che conta però di più ovviamente è che deve comunque deve tornare altrimenti diciamo perché è come se il join te lo facesse te lo facesse poi il cpp stesso te lo fa il linguaggio stesso quindi se il join poi lui non riesce a farlo alla fine sono dolori diciamo così però è una delle cose che solitamente si utilizza a fare dei detached thread per fare questo tipo di attività qualche altra qualche altra domanda io intanto sto provando a fare la copia della slide di prima con gli altri argomenti così cerchiamo una promise è uno slot che contiene una funzione vedi future quando si verifica un certo trigger viene chiamata il promise che invoca la future che contiene allora non proprio succede questo la future è un immagina che il future è un contenitore di qualche valore ok questo future può essere scritto questo contenitore può essere riempito o da una promise nel caso in cui sia nato da una promise in maniera esplicita quindi come vi ho fatto vedere qui ecco qui qui quindi in questo caso qua la promise è stata costruita esplicitamente e il future è stato ottenuto da questa promise quindi il future è il contenitore questo contenitore può essere riempito da qualcuno che ha in mano la promise e gli setta dentro il valore quindi quando setti il valore nella promise è come se ci fosse un tubone lungo che prende sto valore e lo trasmette fino al future che sei tu che stai dall'altra parte del tubo ok l'esecuzione però viene fatta nel caso della promise diciamo quando vuoi tu sei tu che hai in mano la promise la riempi quando ti pare quindi la riempi per esempio che ne so c'hai un altro thread sul quale fare la computazione te lo gestisci tu nel caso di prima invece questo nel caso della sync la sync è un meccanismo che il cpp ci dà per far sì che la promise tu non la vedi nemmeno sta dentro diciamo al meccanismo standard e sostanzialmente la sync è una factory che spara un thread ok esegue la funzione diciamo quando vuole lui però dovrebbe immagina nel caso migliore la esegue a partire subito il thread quindi quanto in base a quanto ci mette poi ci sono ovviamente le varie policy di schedule in del sistema operativo però immagina che ti parte sto thread e ti esegui subito la funzione ok quando la funzione termina finisce ritorna il valore magicamente ti viene inserito dentro al future che è il tuo contenitore dal quale tu puoi fare il puoi fare insomma la get o anche poi controllare anche lo stato ok di questo di questo contenitore quindi non so Lorenzo se ho risposto se ho chiarito un po' meglio il concetto perfetto perfetto allora io vorrei volevo farvi cioè se avete domande fatele se no vi farei vedere un altro un altro argomento e visto che non riesco perché sto cavolo di mentimetere essendo la versione free non mi fa fare più di un quiz o qualcosa del genere ho provato ma non me le fai editare però aspetta aspetta forse ho un'idea perché forse riesco a fare reset result ok forse ci riesco perfetto forse ci riusciamo fermi tutti forse ce l'ho fatta allora ricopiamo il link cancellando ovviamente quella della concorrenza già preso e a questo punto vi direi di ehm aspettate che ve lo si ma è rimasto è già cambiato è cambiato no? sì dovreste poter votare di nuovo quindi se riandate su quel link credo che si siano aggiornati i risultati spero che non ci sia più concorrenza adesso non dovrebbe esserci più la parte di concorrenza ok vedo che state votando quindi la cosa sta funzionando otto grandi un po' 10 diciamo che più o meno quando arriviamo a 11 massimo 12 chiudiamo dai già forse 10 anche 10 forse va bene 11 perfetto penso che siamo tutti perché siamo 14 in chat e poi ci siamo noi tre quindi vai vediamo chi ha vinto attenzione eh me l'aspettavo un po' questa qua il titolo un po' marchettaro anzi che non ha vinto prima ok manipolazione dati algoritmi nel c++ di nuova generazione ok ed era effettivamente poi il primo che avevo messo ma semplicemente perché sto preparando a proposito di questo argomento sto preparando una sessione per giugno per i meetup che facciamo mensilmente ok quindi se vi interessa seguite il sito di conoscere linux e ovviamente anche dell'italian c++ community questa qui dove verrà appunto uscirà il calendario con tutto e la faremo sempre a bordo di bbb perché personalmente mi sono trovato molto bene per fare sessioni interattive secondo me molto molto potente poi è gestito appunto da Luca e da conoscere linux e quindi sono anche più contento onestamente di stare a bordo di questa piattaforma allora che cosa che cosa è questo questo argomento questo è un argomento freschissimo perché è un argomento del diciamo del cpp20 e in realtà non è neanche un argomento completo nel senso che è ancora in corso di ancora in corso di sviluppo nasce da un da un lavoro mostruoso che è stato fatto da un signore che si chiama Eric Nibbler che è un insomma in questo momento lavora in facebook è una persona che ha lavorato tantissimi anni nelle librerie boost quindi se qualcuno le ha mai sentite nominare sono probabilmente le librerie più importanti legate al cpp se non le cinque librerie forse più importanti ed è stata la prima persona pagata dallo standard cpp che è un'organizzazione no profit per formalizzare è tutto questo suo lavoro ok quindi lo standard ha detto sta roba ci piace ti diamo i soldi finisci sta cavolo di cosa perché è veramente incredibile in realtà tutto il suo lavoro si basava sul lavoro che era già stato fatto in passato in altre librerie ma era sempre risultato un pochino ruvido ok con l'introduzione di una serie di novità nello standard Eric Nibbler ha fatto diciamo dei grandi colpi e appunto fino ad arrivare a vedere il suo bellissimo lavoro introdotto finalmente dopo anni di lavoro e di fatica nello standard 20 con evoluzioni che seguiranno ok qual è il suo lavoro sembra una cosa molto semplice ma si tratta di formalizzare il concetto di range che è il concetto che noi abbiamo visto con Marcello durante le lezioni precedenti in particolare la lezione scorsa il range e tutta una serie di cose che poi ne susseguono che cos'è un range effettivamente per dirla molto semplicemente è un qualsiasi tipo che è fornito di begin e end ok quindi è un qualsiasi tipo iterabile ed effettivamente noi abbiamo già nella standard library tutta una serie di tipi che soddisfano questo concetto di range un vettore una stringa un array una lista una mappa tutti i container ma anche prima del c++20 sapevamo già che c'è un primissimo algoritmo che è capace di utilizzare qualsiasi range che è il range base for loop quindi quel for particolare che abbiamo visto anche un po' l'altra volta l'abbiamo provato anche un po' a esplodere quando abbiamo fatto un po' di live coding o vi ho fatto vedere anche la reference ecco il range è tutto ciò che può essere utilizzato all'interno di un range base for loop ma la vera rivoluzione del lavoro di Eric Nibbler e anche di tutte le persone che poi hanno contribuito perché ovviamente è un lavoro open source quindi non è soltanto lui lui è secondo me quello che ci ha messo di più di suo però ovviamente bisogna dare poi merito anche a tutti quelli che hanno fatto delle contribuzioni è quello che c'è dietro a questo concetto di range cioè trasformare un algoritmo C++ da lavorare da una coppia di iteratori a lavorare su un singolo oggetto che soddisfa questo requisito di range ci dà delle possibilità nuove ad esempio implementare un range ok come coppia di iteratori ma anche con tutta un'altra serie di cose ad esempio un iteratore e un contatore oppure un iteratore e un predicato oppure un iteratore e un qualcosa che non è definito per far sì che si possa creare un cosiddetto range infinito ok quindi la prima vera rivoluzione è quella di dotare gli algoritmi STL di overload che lavorano direttamente sul range e non sulla coppia di iteratori quindi ad esempio vedete qui c'è sort non sto passando begin v and v ma sto passando direttamente v ok sto passando direttamente il vettore questo da un lato è anche una semplificazione per noi perché può anche capitare che ci sbagliamo a passare gli iteratori può capitare magari di dare un begin di v and di m il codice compila magari perché sono sempre due vettori ma si riferiscono a posizioni diverse e succede un po' da track runtime quindi questo è uno dei motivi per cui questo avviene poi ovviamente è anche molto meno verboso ma c'è dell'altro ed è la vera rivoluzione ed è un po' del codice che vi faccio vedere tra un attimo patto e range si possono fare le view le view sono degli adattatori cioè trasformano qualcosa in un range quindi fanno apparire qualcosa che loro gestiscono come un range quindi lo adattano ok questo ha tutta una serie di conseguenze perché potrebbero essere queste view dei wrapper che si riferiscono a dei dati per esempio si riferiscono ad un vector ma non possono toccarlo però possono nascondergli sopra della logica iterativa ad esempio ok e poi ci sono tutta una serie di cose interessanti che forse è più facile farvele vedere che raccontarvele nella slide allora prima di tutto vediamo come si fa una view di queste qua la view come vedete qui che cosa sta facendo in questo caso sta prendendo il vettore ok e gli sto passando poi una lambda questa view si chiama filter ok intuitivamente che cosa potrà fare questa view quello che andrà a fare è filtrare quindi tenere soltanto gli elementi del vettore che soddisfano questo predicato ok però la cosa rivoluzionaria è che io qui non sto prima di tutto non sto toccando il vettore quindi il vettore v rimane v rimane rimane quello che è ma quando vado a fare il range base for loop qui sotto lui mi stamperà soltanto i numeri pari perché quando vado a iterare su questa view ogni iterazione di questa view andrà ad eseguire la lambda per chiedersi se l'elemento corrente che ovviamente l'elemento corrente è preso dal vettore perché io alla view gli ho passato del vettore andrà a chiedersi se quell'elemento è buono o cattivo per il filtro e restituirà al chiamante che è range base for loop soltanto gli elementi che soddisfano il filtro l'altra cosa interessante è che questa valutazione viene fatta elemento per elemento non viene fatta tutta la valutazione prima e poi dopo viene fatta l'iterazione quindi in poche parole questa view qui creare questa view costa zero è come se fosse un'espressione è esattamente il link you del c sharp per capirci per chi lo conosce è molto molto simile al link you del c sharp anche i concetti di sviluppo che ci sono dietro sono legati al paradigma della programmazione funzionale da qui vi dicevo il cpp è un linguaggio multiparadigma e questo viene ancora più fuori con questa next gen diciamo così con questa nuova generazione di algoritmi e di strutture che stanno nascendo le view hanno dell'altro però sono componibili possono essere composte con una sintassi molto molto fluente che è quella della pipeline che è un po' la unix qui che cosa sto facendo sto filtrando il vettore sì ma sto prendendo solo i primi tre elementi quindi soltanto i primi tre elementi filtrati mi vengono mi vengono restituiti mentre farò l'iterazione ok questo ha ovviamente delle conseguenze incredibili perché potrei fare le mie la mia pipeline di calcolo la potrei fare complicata quanto voglio ma viene sempre valutata elemento per elemento quindi se io ho un vettore enorme ma mi interessano soltanto i primi tre valori il calcolo enorme viene fatto per i primi tre e basta non per tutto e questo lo scrivo in maniera molto fluente questo è un altro esempio utilizzando un range infinito quindi grazie a grazie a queste a queste view che possono appunto adattare qualsiasi cosa e farlo apparire come un range posso creare delle view che generano delle sequenze infinite sarà poi mia cura prendere soltanto i primi n elementi altrimenti è chiaro che nell'iterazione sarebbe infinita in questo caso iota è una funzione che va da zero in poi 0, 1, 2, 3, 4 eccetera eccetera il nome iota è perché esiste già un algoritmo nello standard che si chiama iota che fa esattamente questa operazione di generare una sequenza incrementale quindi hanno voluto mantenere la stessa lo stesso nome la stessa convenzione di nomi sto facendo più o meno l'operazione di prima come vedete io ho dovuto soltanto sostituire il primo blocco della pipeline e quindi il resto è stato completamente utilizzato allo stesso modo e sto andando a distrarre soltanto i primi i primi tre elementi un po' di dettagli in più ma magari li possiamo anche sorvolare c'è modo anche ovviamente di cambiare questi dati non soltanto di leggerli di manipolarli in lettura possiamo farlo con gli algoritmi che rimangono ovviamente con la possibilità di modificare i dati ma anche con un altro concetto simile a quello della view ma che si chiama action che consente di modificare la grande differenza rispetto alla view è che la action esegue tutta l'operazione su tutti i dati in blocco quindi immaginate qui io vado a fare prima tutto il sort dei dati e poi i dati vengono passati in blocco a unique che toglie i doppioni ok mi consente quindi di fare queste operazioni anche chiamiamole distruttive comunque manipolative in maniera fluente quindi se ho bisogno di fare una una pipeline per scrivere in maniera chiara un qualche tipo di algoritmo posso ricorrere anche a quest'action però non mi ci non mi ci soffermo mi farei fare tre esercizi e tini li vediamo insieme ovviamente questo è un classico problema di riscaldamento da interview tecnica quindi magari se c'è non so se c'è qualcuno che magari sta per addentrarsi verso il mondo delle interview tecniche per un lavoro qualcosa ricordatevi che magari soprattutto all'estero però stanno andando anche in Italia adesso probabilmente farete qualche esercizio di coding questo è un possibile esercizio diciamo di riscaldamento relativamente semplice abbiamo una stringa tipo questa qui con delle con dei caratteri adiacenti uguali quindi che ne so A A A A B B B C C A eccetera devo ritornare una sorta di compressione dei caratteri uguali adiacenti quindi ad esempio A A A 4 B 3 C 2 A A 1 e così via possiamo provare a scriverla con i range ok così vediamo un po' che cosa succede allora questa è la nostra stringa e cosa possiamo andare a fare possiamo andare a utilizzare una certa view che quello che fa è cercare di raggruppare gli elementi del range a seconda di un certo predicato ok e questa questa view si chiama group by raggruppare quindi il nome richiama un po' l'operazione quello che fa questa group by lo vedete lo vedete sulla destra sostanzialmente raggruppa gli elementi a partire da un primo elemento prova ad andare avanti fin tanto che il predicato che gli ho passato è vero quindi equal to è un predicato che verifica che due elementi siano uguali quindi parte dalla prima a la confronta con la seconda la confronta con la terza la confronta con la quarta appena trova la b si ferma e dice ok un primo sotto range l'ho finito ok e quindi crea queste prime a poi va con le b con le c e poi con l'ultima a in questo caso qui ok a questo punto io ho in mano però anche qui è sempre tutto lazy quindi ho ancora in mano soltanto delle espressioni però virtualmente ho in mano dei range quindi da un range principale ho creato dei sottorange quello che posso andare a fare su questi sottorange per ottenere l'output richiesto è quello di andare a destrarre la prima lettera di ogni range e di unirgli la lunghezza del sottorange ok come posso fare dovrò dovrò usare una operazione di trasformazione quindi ogni sottorange deve essere trasformato ok quindi transform che nella programmazione funzionale di solito si chiama map però in cpp si chiama transform quindi vado a trasformare ogni sub range creando una coppia prima lettera lunghezza del sottorange fine poi posso andarla a stampare finito questo tipo di algoritmo scritto senza i range non è così facile da scrivere ovviamente bisogna prenderci un po' di confidenza però non è così semplice da scrivere senza i range ok devo fare una tecnica con un doppio puntatore che va avanti due vanno avanti appena trova l'ultimo elemento non valido poi devi fare un reset del puntatore insomma non è una cosa da tre è per quello che viene usato nelle interview tecniche avete i range a portata di mano glieli sfoderate spaccate tutto con range poi ovviamente vi dice ok i range li togli lo scrivi a mano questo è un altro discorso però potete fare una bella figura sicuramente se gliela scrivete con i range ovviamente se usate python queste cose qui per voi sono acqua fresca quindi queste sono all'ordine del giorno queste cose qua però insomma c++ non c'eravamo ancora arrivati quindi adesso siamo un po' fomentati perché ci siamo arrivati anche noi altro esempio questo qui è un esempiuccio per lavorare con le matrici quindi le matrici l'abbiamo anche insomma l'abbiamo sempre studiate penso all'università a chi anche all'istituto tecnico magari alle superiori e tutto un po' di manipolazioni di matrici per esempio trovare che ne so il numero di righe di una matrice scritta come vettore di vettore è banalmente la distanza quindi la distanza immaginate che sia ritorni alla lunghezza quindi quanti sottorange ci sono quindi in questo caso ci sono tre sottorange dal primo vettore dal vettore principale ci sono tre sottovettori e poi il numero di colonne potrebbe essere quanto è lungo per esempio il primo vettore assumendo che la matrice sia rettangolare ok banale facciamo qualcosa un pochino più carino cerchiamo di accedere ad esempio alle colonne però sempre in maniera lazy e senza copiare i dati quindi sempre generando queste l'accesso alle colonne generandolo on the fly ok allora prima di tutto io posso fare posso fare una view che mi consente di unire tutti gli elementi della matrice però ripeto è un'unione lazy che non avviene davvero è un'unione virtuale ok da questa da questa join che io faccio di tutti gli elementi è come se avessi virtualmente un vettore flat con tutti gli elementi al quale posso applicare dei displacement che voglio io per muovermi ad esempio se io volessi estrarre la prima colonna dovrei muovermi sul primo elemento poi dovrei schippare il numero di colonne e poi di nuovo schippare il numero di colonne finché insomma ho finito gli elementi del finché ho ovviamente elementi ok questo lo posso fare con una view che si chiama drop con la drop posso schippare il primo in questo caso non schippo nulla ma schippo è come se schippassi il primo elemento in realtà qui lo sto schippando però poi posso andare a applicare quello che si chiama uno stride quindi posso andare a saltare per un numero che è il numero di colonne in questo caso quindi la prima iterazione ritornerà al primo elemento la seconda iterazione ritornerà l'elemento che va a distanza del numero di colonne e così via finché ho elementi nel range con questo trucco posso ovviamente accedere a tutte le colonne che voglio quindi ad esempio se volessi accedere alla seconda colonna basterebbe schippare le prime due i primi due elementi e poi muovermi con la stessa logica ok quindi in questo caso qui io nel primo caso non ho droppato nulla era soltanto per chiarezza nel secondo caso ho schippato i primi due elementi quindi questi due li ho saltati e quindi vado direttamente sul terzo e poi mi vado a muovere a step di tre e quindi vado qua ok posso fare la stessa cosa anche per per la diagonale chiaramente e la logica è esattamente la stessa devo soltanto avere cura di non fare nessun drop iniziale ma di fare semplicemente un salto che va sempre con un numero di colonne più uno in questo modo accedo alla diagonale ok e qui le possiamo stampare un'altra cosa molto comoda è i range e li puoi tutti stampare quindi è anche molto comodo per il debug ultimo esempio il fitzbuzz rivisitato questo qua è un esempio proprio delle 11-20 proprio per darvi la botta finale l'altra volta vi abbiamo fatto vedere la prima lezione vi abbiamo fatto vedere il fitzbuzz vi abbiamo chiesto di scriverlo e vi abbiamo detto chissà magari c'è qualche versione esoterica nel quale potremmo potremmo andare a scriverlo questo ovviamente è giusto per esplorare un po' il mondo dei range anche per esplorare qual è il paradigma che c'è dietro per vedere un po' come poterlo sfruttare al meglio allora il fitzbuzz se vi ricordate è questo esercizio per il quale io devo stampare i numeri da 1 a n però al posto dei multipli di 3 devo scrivere la stringa fitz al posto dei multipli di 5 devo scrivere la stringa buzz e al posto dei multipli di 5 e di 3 quindi di 15 la stringa fitzbuzz ok nel resto dei casi devo stampare i numeri ok allora guardate questo guardate questo modo di scriverlo mi creo due array di appoggio che rappresentano l'unità atomica per fare il fitz e per fare il buzz che vuol dire il fitz sono due stringhe vuote perché l'uno e il due per me rimangono numeri e quello che va a fare questa array fitz è fare una sorta di override del numero 3 lo stesso lo faccio con buzz buzz però lavora a multipli di 5 quindi io andrò a scrivere buzz al posto del numero 5 dove mi sto aspettando il numero 5 quello che poi posso andare a fare è andare a ripetere questa sequenza all'infinito sempre virtualmente in questo modo qua con una view che si chiama cycle che ci permette di ciclare queste sequenze all'infinito quindi immaginate che chiamare questo cycle su feeds fa sì che se io dovessi accedere al sesto elemento virtualmente avrei ancora un feeds ok lo stesso vale per buzz con i multipli di 5 quindi se accedessi al quindicesimo elemento di di questo air buzz avrei la stringa buzz e così via a questo punto che cosa posso andare a fare di interessante posso andare a fonderli insieme posso andare a unire queste due sequenze per avere un'unica sequenza posso farlo sempre utilizzando le nostre view esiste una view che si chiama zip with zip è molto conosciuto come termine nell'ambito del funzionale molto utilizzato ed è la consente di unire elemento per elemento n range in questo caso due ok e zip with si chiama with perché lavora con una funzione che ci permette di unire queste sequenze quindi le unisco con una operazione l'operazione in questo caso è la somma sappiamo che le stringhe si possono sommare e la somma di stringhe è la concatenazione ok quello che vado a fare qua quindi è ottenere una bellissima sequenza con delle stringhe vuote dove non ci sono né multipli di 3 né multipli di 5 né multipli di appunto neanche di 15 ma la cosa interessante è che nei multipli di 15 ottengo fits buds ok già iniziamo a capire a questo punto l'unica cosa che manca è andare a riempire le stringhe vuote andare a riempire quei buchi ok con i numeri ok perché quelli sono rimasti sono rimasti ancora fuori dal nostro ragionamento potrei farlo in vari modi un modo carino che è stato appunto ovviamente questi sono i nostri numeri quindi questa è la nostra sequenza infinita di numeri tutti quanti trasformati a stringhe la cosa carina adesso è unire questi due quindi unire l'abbiamo visto prima è sempre una zip width ok però questa volta io non posso fare una zip width così com'è perché altrimenti al posto ad esempio del primo feeds otterrei feeds 3 oppure al posto di feeds buds otterrei magari feeds buds 15 non voglio fare questo voglio lasciare feeds buds e feeds buds da soli ok come posso fare posso fare sia una zip width ma con un operatore con una con una funzione personalizzata quindi con una lambda che gli possiamo passare dove qui in maniera un po' esoterica viene preso il massimo tra le due string ok perché tanto lessicograficamente feeds buds e feeds buds saranno sempre più grandi dei numeri questo ovviamente è un trucchettino esoterico però insomma è per darvi un po' un'idea ci sono modi diversi di farlo e questo qua insomma era per farvi vedere poi qui ovviamente io devo andarne a prendere un tot perché è una sequenza infinita quella dalla dalla quale siamo partiti ricordate che abbiamo ciclato e il cycle è un qualcosa che ripete all'infinito la cosa bella interessante è che tutta questa catena di computazioni viene fatta puntualmente elemento per elemento e diciamo viene fatta tutta insieme diciamo così quindi poi il compilatore potrebbe essere bravo a fare delle delle ottimizzazioni questo è un po' per per darvi per darvi un po' un'idea se volete questa qua potrebbe essere la reazione media al codice che avete visto quindi se state in questa situazione qua è più o meno comprensibile anche vista l'ora quindi ci sta se volete allenarvi questo è il miglior libro in circolazione piccolino ce l'ho qui libricino piccolo veramente piccolo molto bello molto ben curato ottima grafica non sto facendo pubblicità però semplicemente perché veramente un lavoro apprezzato secondo me non l'ho scritto io ovviamente però abbiamo uno sconto del 25% se volete usufruirne non credo costi molto tra l'altro c'è anche la versione solo elettronica che costa ancora meno però a me piaceva molto tenerlo cartaceo perché è veramente molto bello esteticamente e ci sono tantissimi esercizi tra cui il FizzBuzz e tra cui la parte sulle matrici ci sono anche delle altre cose che non ho messo sulle matrici però veramente pieno di esercizi molto molto veloce da leggere quindi se volete esercitarvi questo qui è veramente un ottimo punto di partenza a questo punto vista l'ora io non mi addentrerei negli altri due argomenti bonus che potrebbero essere chissà un giorno oggetto di un altro corso non stiamo promettendo niente però comunque le slide io ve le lascio degli argomenti bonus anche se non ve le se non ve le racconto ma proprio in un minuto di che cosa si parla negli argomenti bonus si parla di quegli argomenti che abbiamo lasciato fuori che sono i lifetime pattern quindi tutto il discorso del tempo della gestione della vita delle risorse quando si va in un territorio dinamico quello che un po' accennava Marcello prima e quindi anche per rispondere alla domanda di Lorenzo unique pointer oggetti polimorfi qui dentro qualcosina ci sta scritto ok sostanzialmente qualcosina ci sta scritto e poi l'altro argomento che manca è la programmazione compile time quindi template un veramente un accenno veloce ai template e qui dentro se volete ci sono un paio di esempi che forse quelli anche a cui Marcello si riferiva all'inizio del codice esoterico oltre a quello dei range ci sono degli esempi ucci tipo questo per esempio ci sono degli esempi tipo questo qua che ci consente di fare delle scelte a compile time questo lo faccio vedere perché poi c'era il meme carino dopo che era lo stesso di prima anche in questo esempio qua c'è la reazione media al codice di prima che è questo qua ovviamente insomma io comunque le slide ovviamente ecco questo poi è quando ci prendi gusto con i template che vai a questo livello qua di divertimento le slide ovviamente poi ve le lascio e chissà poi potremmo riprendere questo discorso in un altro in un altro momento però prima di veramente di lasciarvi secondo me possiamo fare l'ultima votazione quindi se tornate allora se tornate al link di prima aspettate che vabbè è sempre lo stesso comunque il link di prima però se tornate un attimo qua purtroppo siete un pochino ovviamente siete andati via non so se state ancora sì si vede il giornato si vede ok perfetto 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 ok quindi se facessimo un corso successivo che importanza dareste a questi contenuti ovviamente fate le vostre le vostre considerazioni con con calma poi magari questo questo qui lo potremmo anche mandare via mail agli iscritti perché chiaramente molti ci hanno abbandonato vista l'ora che è super comprensibile come cosa e Marco possiamo anche metterlo eventualmente sul come è legato al link al corso le slide sono riuscite a metterle quindi adesso ci ho messo metterò il link al video possiamo mettere anche volendo questo link qua sì sì no grande non so se avevo già messo non mi ricordo il i contenuti bonus ma comunque li aggiungo eventualmente dopo mi fai avere la slide se c'è qualche cosa di più tranquillo perché forse l'avevo forse l'avevo addirittura già caricati ecco bonus ok ok forse forse sono riuscito a farlo perfetto ok ok vedo che state un po' chiaramente adesso è possibile che ci sia un bias nei confronti di quegli argomenti che non siamo riusciti a coprire quindi questo è più che comprensibile no è che ovviamente abbiamo aperto un portone nel senso che sì 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 è chiaro che come dicevamo prima abbiamo coperto un po' la punta dell'iceberg però è stata una cosa introduttiva sì 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 diciamo che ci sono tantissime cose volendo e quindi comunque non è sempre visto benissimo come cosa esatto il prodotto in CQQ non è proprio no c'è c'è una una frase che adesso non ricordo esattamente come fa ma è una cosa tipo passi il 50% della tua vita a capire il CQQ e l'altro 50% a spiegare agli altri perché l'hai fatto una cosa del genere perché effettivamente è una certa complessità invece non so se hai mai visto le vignette di tog.com che sono sì 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 che c'è salvare la precipessa con i vari linguaggi che c'è più che riesce a salvare la principessa invece in C Sharp perde tempo a fare l'inchiu e nel frattempo la principessa si è liberata da sola ed è andata via in PHP la principessa tu quando hai finito di capire il PHP il castello è andato distrutto la principessa ormai non c'è più ed è morta fantastico sì sì fantastico ok secondo me avete votato tutti perché ci siamo soltanto nei tre quindi questa più o meno è la beh comunque i risultati sono abbastanza diciamo orientati verso programmazione generica e template a pari merito con tutta la parte di gestione di progetti dipendenze eccetera testing del codice che è un altro bello argomento effettivamente la parte di librerie open source a pari merito con testing del codice la parte di esercizi e poi la parte di parallelismo e concorrenza quello che rimane un po' fuori sono i lifetime patterns e la novità degli ultimi standard effettivamente sui lifetime ci si potrebbe veramente dedicare poco tempo per spiegare un po' i concetti di massima poi molti possono essere approfonditi sì ci sono i classici quelli su scusate ma l'orario è fuori i concetti ma ci sono i classici pattern che vengono studiati nei linguaggi d'oggetti insomma sì allora quello lì diciamo che è un argomento che è un po' più legato ad un contenuto che volevo inserire ma che non ho inserito che è legato alla programmazione multiparadigma quindi cercare di spiegare che cosa vuol dire in cppu fare multiparadigma quindi mixare tra virgolette diversi stili object oriented funzionale imperativo e anche eventualmente delle tecniche diverse aspect oriented programming domain driven c'è tantissima roba però ecco lì effettivamente non l'ho più inserito perché è veramente un corso intero quindi non è banale sui lifetime si potrebbe spendere comunque una mezz'oretta tre quarti d'ora come fare un singleton si allora guarda ti dico il singleton qui ti posso raccontare anche un aneddoto cioè il singleton solitamente è il pattern più infame perché è diciamo uno dei pattern più vicini agli antipattern e l'aneddoto qual è l'aneddoto è che ho dei cari amici che hanno tanti anni fa fecero un colloquio di lavoro ad una persona chiedendogli conosci dei pattern e allora questa persona era tutta diciamo tutta carica nel dire ehi pattern ma che scherzi conosco tantissimi allora gli hanno chiesto dimmene uno il primo che gli è venuto in mente forse il primo che conosceva il singleton ma il singleton diciamo che è quello più vicino sì e che diciamo per tenere in memoria cose che ti servono più punti serve più per come si chiama per l'aspect programming esatto diciamo che il problema fondamentale è che in C++ non ci sono una serie di cose quindi spesso si ricorre al singleton perché mancano certe cose per esempio la dependency injection come la viai a fare in linguaggi tipo C Sharp che ovviamente hanno reflection quindi ti permettono di fare dependency injection con tutti i crismi insomma in maniera decente C++ non ce l'hai quindi o usi delle librerie terze parti che provano a emularti un po' la dependency injection oppure una delle soluzioni più accreditate di usare ad esempio dei service locator oppure di fare il wiring a mano tutto quanto il singleton ovviamente ci sono degli scenari in cui è fondamentale ed è utilissimo però ecco la cosa che l'aneddoto che un po' fa sorridere è questo il fatto che una persona che dice di conoscere mille pattern il primo che ti viene in mente è il singleton forse c'è qualcosa che non va però ecco questo poi è una mia opinione ed è ovviamente per ridere ragazzi cioè si fa ovviamente per ridere però ecco se mi diceva strategy se mi diceva visitor se mi diceva decorator adapter proxy tutti quelli che vuoi memento per esempio ci pio più un decorator come lo fai quello là potrebbe essere scopo eventualmente di una lezione cioè come si potrebbero fare design pattern oggi ci sono anche dei corsi in realtà che sono stati fatti recentemente proprio sulla rivisitazione di design pattern in modern c++ però ecco potrebbe essere una anche javascript fai fatica a fare la notation e quindi esatto ci sono esatto ci sono tutta una serie di ci sono tutta una serie di cose che poi si possono utilizzare fino a un certo punto chiaramente però sì ci sono delle ci sono delle delle cose carine che si potrebbero fare allora questo sono dei dati che noi sicuramente ci teniamo e mandiamo ai ragazzi e le ragazze insomma che ci vorranno magari dare il loro contributo via mail insomma comunque sempre con questo qui c'è anche un'altra domanda dovrebbe essere cambiata anche da voi su un feedback un po' più generale sul corso chiaramente anche questa domanda se volete potete rispondere a casa non è detto che rispondiate adesso come siete come preferite un feedback libero ci sono degli spunti che abbiamo scritto nella domanda tipo appunto se ci sono degli argomenti che volete approfondire assolutamente un po' che richiama la domanda di prima ma per farci sentire anche la vostra opinione proprio diretta qualcosa che è andato particolarmente bene qualcosa che è andato particolarmente male eravamo simpatici eravamo antipatici l'orario non andava bene volevate uscire andare a fare l'aperitivo cioè tutto quello che vi viene in mente scrivetelo nel feedback anche ripeto nei prossimi giorni intanto questo rimane direi che rimanga attivo adesso non ricordo se questa cosa qua rimane attiva direi di sì quindi fateci fateci un po' sentire la vostra ecco chissà che non si farà un seguito magari dopo l'estate magari il prossimo anno non lo sappiamo onestamente perché preparare un corso Marcello ha fatto un lavoro incredibile di preparazione del corso siamo stati anche un po' addosso con Luca perché cercavamo un qualcuno che si immolasse per tenere una testa da rieto il corso esatto però secondo me il corso è stato molto molto diciamo anche vederlo io da spettatore anche se ero poi all'interno diciamo di quelli che presentavano però vederlo sono molto piacevole quindi spero veramente che sia stato interessante anche per voi e anche se abbiamo fatto solo tre lezioni ripeto magari in futuro potremmo fare qualche altra cosa certo non mi sento un iro ma vabbè lo stesso eh diciamo che hai questo era proprio l'addestramento base per poi diventare per sprigionare l'eroica in te e perdere ulteriori notti a lavorare esatto io lascerei la parola a Marcello a questo punto che poi è il vero realtà protagonista del corso io non volevo rubare la scena comunque diciamo mi avete obbligato a fare delle cose che poi mi sono piaciute e che in qualche modo poi riverserò anche altrove i miei studenti ignari che non sanno quello che gli aspetta a questo punto no niente spero di essere stato utile ovviamente non ce l'avrei potuto fare senza diciamo le frustrate gli input di Marco e di Zompa e basta poi ho anche imparato a usare questo BBB che mi sembra molto interessante anche per un ambiente scolastico adesso vedremo un po' di vedremo come fare insomma sì ecco in un corso di livello superiore io sarò sicuramente totalmente studente e non non insegnante magari su qualche singolo aspetto anche anche però comunque sei stato chiaro e ti ringrazio per la tua disponibilità insomma grazie secondo me rispetto a un corso tradizionale Marcello è stato anche molto molto bello sentire anche la tua formazione matematica quindi anche tutti i riferimenti che hai fatto al mondo dell'informatica gli algoritmi anche appunto la precisazione che hai fatto oggi sul quick sort scusami sul sort quindi sull'intro sort è una cosa che non non si trova spesso in corsi anche avanzati di C++ quindi una cosa secondo me particolarmente di valore è stata anche la tua formazione di grande esperienza anche infatti hai attinto da più da più fonti anche no? è un tematico che ha in me esatto va bene niente allora la chiudiamo andiamo andiamo a 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 tranquilli e poi vediamo dopo aspetto sto video anche il video di questo vogliamo mettere la slide quella parte 3 da qualche parte ce l'avevamo no no volevo metterti la slide quella finale di ringraziamento ma non se puoi riprendi riprendi pure tu la no sto guardando ah ecco guarda questa qua eccola ce l'abbiamo ce l'abbiamo sì 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 perfetto va bene allora ottimo io ringrazio anche Zompa per insomma il mio supporto è stato veramente marginale ma la mia aurea vi ha tenuto tra l'altro secondo me è un'ottima prova per BBB che io personalmente mi sono trovato molto molto bene so che anche tu Zompa hai fatto un lavoro incredibile per i video che sono venuti benissimo devo dire che ho fatto un po' di ricerchile di cose ma alla fine sono riuscito molto ad automatizzare la cosa grazie a un look australiano tra l'altro che aveva postato alcuni script in python per poter scaricare dinamicamente i video e creare il progettino però sì vengono bene e ci fa poca fatica quindi lo utilizzerò per la prima lezione abbiamo già 300 visualizzazioni quindi sì infatti vedevo è pazzesco sì sì ma secondo me tra l'altro su corsi questi qualche verranno visualizzati molto diventeranno punti di diamante del nostro canale esatto punti di diamante della monetizzazione di conoscere Linux eh quella non la facciamo facciamo il corso di contrari ci quotiamo in borsa se ah sì effettivamente poi la monetizzazione non l'abbiamo mai più attivata perché giustamente c'era quel discorso del lucro sono d'accordo comunque così non abbiamo manco le pubblicità che rompono le scatole quindi sono d'accordo pochi spicci che ci arrivavano esatto invece ringrazio tutti quelli che sono iscritti al corso che hanno fatto tutti gli iscritti con il bonifico e quant'altro che insomma questo ci è salvatto un po' un avvocato d'ossigeno in questo periodo le nostre finanze sono un po' eh sì è vero mi ha tirato un po' la cinghia comunque dai riusciamo a fare belle cose come questa quindi non dico che c'è ancora della voglia di fare aspetto il vostro bonifico di 5 mila euro non dirlo lo faccio stasera non dirò niente va bene va bene grazie grazie ancora a tutti anche quelli che magari ci staranno seguendo nel 2023 su youtube chissà e niente un abbraccio buonanotte a tutti ciao Lorenzo un abbraccio ciao a tutti ciao buonanotte a tutti spegni la registrazione che altrimenti qui andiamo zona rossa adesso zona rossa segreta non si può più dire va bene siamo fuori siamo fuori anche coprifuoco va bene ragazzi io vi saluto ci vediamo